L'importante della squadra è stare fuori e penso che sia doveroso condividere le gioie che si vivono in campo anche con quelli che soffrono fuori. Mi ricordo che dopo Rapinoletto avevi detto peccato una doppietta non la facevo da... Eh sì, da troppo tempo però al di là di questo sono felicissimo a livello personale perché è una gioia incredibile ma sono ancora più felice per il risultato della squadra che era fondamentale oggi prendere i tre punti perché ormai quelle dietro sono vicine e non possiamo sbagliare. È stato difficile andare in campo sapendo che il Brescia ha avuto l'ultimo tosse? No, io sinceramente non lo sapevo nemmeno chi sto adesso, però insomma sono lì dietro No, noi dobbiamo cercare di pensarci il meno possibile, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e mettere al sicuro il discorso playoff e poi vedere come va a finire.